Bentornati a Genius, il format che si occupa di cultura ma anche di attualità, è vero Alberto? Sì, perché l'arte, la cultura in qualche maniera veicolano quelle istanze che ci toccano tutti i giorni, un'arte scollegata dalla realtà, dalla quotidianità non avrebbe senso, perché l'arte racconta, in qualche maniera illustra, sottolinea, rimarca. Esatto, io infatti sono molto contenta di essere qui oggi ad affrontare un tema che purtroppo è sempre molto attuale, che è quello della violenza e di condividere questi momenti con te e con il pubblico che ci seguirà. Bene, ben trovati qui a Genius, ben trovati Eleonora. Come dicevamo nell'introduzione, oggi vorremmo tornare a parlare di un argomento sempre attuale, purtroppo, che è quello sulla violenza, quello della violenza, la violenza sulle donne soprattutto. Un argomento che ci interroga, che ci provoca, che ci provoca sdegno, repulsione, ma anche volontà di migliorare, di superare, di crescere. E ce lo fa purtroppo continuamente, i dati di cronaca, ahimè, quelli del 2003 sono uno stilicidio, oltre 120 femminicidi, senza contare gli altri omicidi, insomma, un numero enorme. Ecco, un numero che ogni volta cresce, ogni volta il bilancio si sposta un po' più in là, ogni volta provoca sdegno, necessità, bisogno di migliorare, e poi ci si ricade. Questa spirale della violenza sulle donne, Eleonora, avrà mai una fine? Non credo proprio che avrà mai una fine, ma potremmo però ricollocarla in una dimensione di consapevolezza che ci possa aiutare ad affrontare meglio questo argomento, di cui si chiacchiera tantissimo, a volte anche a sproposito, o a volte semplicemente per l'audience, o per innescare quei meccanismi di morbosità eccessiva, che non hanno nulla a che vedere con il pathos e con la capacità di capire quello che è il destino delle vittime, vittime che vengono messe in risalto e poste sotto dei riflettori, anche piuttosto aggressivi, solo nel momento in cui avviene il fatto di cronaca. Ma poi Alberto, una volta che questo fatto è stato dimenticato e soppiantato da altri episodi di altrettanta gravità, che fine fanno? Vengono dimenticate queste vittime, vengono sostenute, continuano ad avere chi si occupa di loro sul piano del supporto psicologico, del sostegno pratico, quotidiano? Questo spesso sai che non avviene. Sì, immagino che, anzi non immagino, ahimè la cronaca quello è, che nel caso di una violenza estrema è proprio la vittima quella che non ha più possibilità di parola, ovviamente, perché non c'è più, ma nel caso di violenze che non hanno portato all'omicidio, quindi alla soppressione della vittima stessa, ci si concentra spesso sulle dinamiche, sulle dietrologie, piuttosto che nei casi più brutti, a volte sulla vittimizzazione secondaria della vittima. Ah, ma perché è successo questo? Forse perché magari un po' di colpa ce l'aveva anche lei, perché poi succede anche questo, insomma. Ahimè, i casi ne abbiamo tantissimi. Quanto è importante dare voce alle vittime, a quelle che ancora possono parlare? Io lo dico e lo scrivo questo quotidianamente, sia attraverso i miei articoli che attraverso i libri di carattere sociale che tu ben conosci e che partono sia da esperienze personali, in ambito della violenza che tu conosci molto bene, che alcuni forse non lo sanno ma altri sì, che purtroppo io l'ho vissuta in prima persona diversi anni fa e questo fu oggetto di attenzione da parte dei media, della RAI, della Mediaset e dei giornali più conosciuti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha una diretta esperienza con il dolore, con la sofferenza, è chiaro che si impegna maggiormente nell'attivismo in questo campo e mi fa molto male vedere come le attenzioni del giornalismo siano rivolte al caso di cronaca presente anche in modo piuttosto virulento, senza neanche troppo rispetto per la sofferenza, per il dramma di quel momento, ma proprio perché si deve raccontare, si deve creare il dramma così da teatro a volte, che comunque non è rispettoso verso chi soffre. Quando parliamo di vittime, di violenza, non parliamo solo, appunto come hai sottolineato tu prima, delle vittime decedute, parliamo delle mamme che hanno perso i loro figli, parliamo anche dei figli che hanno perso magari i propri genitori o fratelli o parenti e quindi parliamo di chi rimane nel limbo di questa sofferenza che riecheggia nel tempo, che avanza. Pensiamo ad una storia accaduta 15 anni fa o 20 anni fa, il fatto che appartenga al passato non può determinare l'oblio di quella persona, perché il passato non cura, spesso enfatizza, sottolinea, rimescola quella sofferenza e non tutti riescono ad avere gli strumenti per riuscire a risalire da questo baratro, c'è chi rimane schiacciato per sempre e continua a vivere quella morte, quella perdita. Sì, tu sei una conoscitrice in prima persona di alcune dinamiche, molte altre le hai scoperte andando ad intervistare, andando a conoscere, proprio perché come dici tu, chi ha vissuto in prima persona qualcosa poi molto partecipe nell'attivismo e nel cercare di fare la propria parte, perché certe cose non avvengano più e quindi da molti anni sei andata ad indagare, a scoprire, a cercare di far emergere dal sommerso storie che magari potevano anche essere destinate all'oblio. Tu hai scritto nel 2016 un libro che è Le donne e il dolore, dove racconti alcune di queste storie, che non sono storie tutte uguali o tutte con la stessa dinamica. Sì, sono storie chiaramente diverse, abbiamo la storia della mamma, come dicevo prima, che ha perso la figlia presa a botte dal compagno, come nel caso di Paola Caio, che va comunque ricordato questo caso, Paola ancora c'è, ancora vive chiaramente e ancora va a trovare la figlia al cimitero tutte le domeniche. È una donna che ha manifestato delle grandi risorse personali legate in parte alla sua fede religiosa e in parte a questa sua forza e a questa volontà di sostenere le donne vittime di violenza, di adoperarsi quando si rende conto che qualcuno è vittima di un abuso, rimane in lei questa propensione al sostegno dell'altro. Quindi io credo che ci sia della bellezza in chi supera da solo queste vicende di dolore. Poi ci sono altre storie di abusi anche sessuali, come nel caso di Cinzia Giluni, una ragazza che dopo la morte della madre, era in età chiaramente adolescenziale, si è ritrovata a vivere, a subire un rapporto incestuoso con il padre, anche questa è una forma di violenza tremenda. È chiaro che lascia dei segni, lascia dei segni che portano le vittime ad arrancare, a ricostruirsi e a cercare di dare un senso alla propria esistenza, ma anche di sentirsi utili per se stesse e per gli altri. Non è un caso che queste donne poi facciano sempre qualcosa che le faccia sentire utili, come la creazione di un centro antiviolenza, per esempio, o come qualcuno che fa un lavoro di supporto, di sostegno, fa l'infermiera o cose di questo tipo, perché c'è questo bisogno latente di dare un senso al proprio dolore, alla propria sofferenza, di riviverlo in maniera propositiva. In tutto questo chi è? Chi è l'attore? È la vittima stessa, ma chi c'è intorno alla vittima? Sì, forse un probabile psicologo a pagamento di chi se lo può permettere, ma non sempre. E quindi che cos'è che manca? Manca un'attenzione che non sia solo quella mediatica e morbosa legata all'atto del crimine in sé, del momento, dell'episodio di cronaca, ma un'attenzione generale che continui nel tempo e che faccia sì che queste persone vengano rispettate in primis senza che vengano dimenticate. Nel mio libro Le donne e il dolore ho cercato di fare questo, ho cercato di eternarle queste vittime, di renderle sempre presenti, non solo nella memoria, ma nella consapevolezza di chi assiste alla violenza e vi assiste dimenticandole il momento dopo in virtù di un'altra storia che colpisce. Non è triste tutto questo? È molto triste e anche, devo dire, un pochino umano, perché noi tendiamo a tenere distante da noi il dolore con tutto quello che porta con sé, anche da un punto di vista della storia, quindi tendiamo a dimenticarlo, però è chiaro che le vittime dovrebbero essere tutte uguali, non è che c'è la vittima di serie A, la vittima di serie B, le vittime sono vittime comunque, e quindi la necessità di ricordare per dare dignità e per far sì che quella storia diventi esemplare affinché non accada più è un valore che va coltivato. Tu Alberto hai parlato di uguaglianza, io questo volevo rimarcarlo anche sul piano della vittima, non soltanto donna, ma a volte anche uomo. Io nel libro parlo di persone vittime di violenza, non c'è soltanto la donna che subisce dall'uomo, tant'è che l'ultimo capitolo che io scrissi fu dedicato proprio a una storia al contrario, cioè alla parte di un uomo che aveva subito una sorta di pressione psicologica, di violenza sottile, sub-dolà di cui spesso le donne sono capaci. Quindi volevo spezzare una lancia anche a favore dell'uomo che non è necessariamente colui che esercita violenza, sì a livello fisico forse è naturalmente più capace, più propenso rispetto ad una donna ad esercitare violenza fisica, ma c'è anche e soprattutto la violenza psicologica di cui ahimè a volte sono capaci anche le donne, questo va detto. Sì, e poi ci sono anche altre forme di violenza che non sono solo quelle fisiche, le botte, la violenza sessuale, eccetera, magari c'è la violenza psicologica oppure la violenza economica, perché no? Perché se uno è dipendente completamente dall'altro e l'altro comincia a, altro o altra, a tagliare mezzi. A limitare la libertà dell'altro. A libertà o mezzi di sussistenza, quella è una violenza anziché no. È chiaro che voglio sottolineare che i dati rimarcano quanto siano più le donne, maggiormente le donne vittime di violenza rispetto agli uomini, questo va detto, sono i dati che lo dicono, ma il mio è un discorso di principio che va a tutelare quei casi minori in cui avviene il contrario, in cui c'è anche l'uomo che se è vittima di violenza, quella violenza può non essere riconosciuta, compresa e colta, no? Nella giusta misura con cui viene fatto nel contesto delle donne. Giustissimo. Bene, io ringrazio Eleonora, ti ringrazio per essere tornata su questo argomento, un argomento che, ahimè, abbiamo ricordato più volte, è quanto mai attuale e purtroppo quanto mai attuale, augurandoci che la cronaca ci riservi sempre meno notizie di questo tipo, insomma, che effettivamente tanto parlare intorno a questo problema ci aiuti tutti a superarlo in maniera positiva, cioè proprio a evitare che certe cose accadano. Ma soprattutto augurandoci Alberto che ci sia maggiore consapevolezza da parte di tutti, che si possa comprendere come stalker, che è una parola che viene utilizzata nell'ambito di questo libro che significa predatore, è una condizione personale che può riguardare tutti, chiunque in maniera latente può essere, può diventare uno stalker nella circostanza giusta e quindi comprendere le dinamiche che ci portano a diventare degli stalker o ad essere delle vittime è fondamentale, questo ci aiuta a farlo soltanto il libro, l'informazione, la lettura, la cultura e la letteratura ci insegnano questo, ecco perché io esorto sempre a leggere, non necessariamente i miei libri, ma i libri in generale, perché l'apertura mentale è ciò che porta a quella consapevolezza di cui parlavo prima, senza la quale non possiamo andare da nessuna parte, non potremo mai migliorare come persone. E con questo viatico per oggi da Genius è tutto, vi invitiamo a continuare a seguirci in altre puntate. Grazie per la visione!